Ok signori, un bel ritrovati, sempre Reno qui che vi parla, quest'oggi un video per dimostrarvi perché io vi dico sempre di comprare le scorte Ne parlo abbastanza, intanto mi chiedete com'è possibile, si riducono i profitti, bla bla bla, insomma vere cose, però Il motivo per cui ve lo dico è una questione di tempo e oggi ve lo farò vedere Seppur i business dell'MC non convengono più, ci sono i colpi da fare, c'è l'import-export che è molto meglio, ci sono tante emissioni che spesso sono a soldi doppi Avere questi business da gestire costantemente può essere fastidioso, io non lo consiglio mai, piuttosto fate altro Però qualcuno ce li ha e quindi insomma vediamo cosa si può fare, voi ricordatevi di possibilmente lasciarli perdere questi business Se li dovete comprare, comprateli, allestiteli e lasciateli perdere solo per il net club La cosa brutta è del doversi gestire tutte le varie scorte che si ha comprato rubate, poi dovete venderli Quando andate a vendere, se siete sopra le due tacche di merce, avete poi più veicoli, questi veicoli Poi magari vi prendono i nemici, vi fanno saltare le cose, dovete fare avanti e indietro, non avete amici con cui venderli Insomma quindi i business dell'MC non convengono se non attaccati al net club Però spiegato un video del perché non conviene rubare le scorte Allora cominciamo subito, ho cominciato la sessione dalla mia sala giochi, ok? Quindi ho cominciato a far partire il primo carico di scorte da qua, mi occuperò di un solo business E poi parleremo delle conclusioni, quindi mi sono messo in sessione e ho preso il garage di cocaina Che era totalmente vuoto, quindi andate a vedere La barra blu che vedete lì sotto non è quella delle scorte ma quella della merce prodotta Quindi clicchiamo, molto semplice, accedi, vedete che ho la merce oltre la metà E rifornisci ruba scorte Ora io sono fortunato perché ho il, come si chiama, ho il Master Control Terminal Quindi la prima l'ho fatta a partire da qua Però voi dovrete andare, innanzitutto viaggiare, se avete speso poco, com'è giusto che sia Per poter guadagnare di più e quant'altro Avrete probabilmente il business fuori, ok? Quindi il business fuori vuol dire che già dovete andarci Mentre invece l'ho fatto partire dalla città Ora qua sto rubando una macchina, semplicemente perché ho l'Oppressor E non voglio fare queste missioni con l'Oppressor, quindi non voglio volare Adesso chiamerò una Krieger, eccola qua Non è l'esperimento migliore perché avrei dovuto usare un altro tipo di macchina Una macchina magari un po' meno veloce Molte delle persone che hanno i primi business del Motorcycle Club Non hanno una Krieger, non hanno un Oppressor Quindi avrei potuto tranquillamente prendere un'altra macchina Però non volevo veramente impiegarci una vita Prima missione, dobbiamo intimidire il bersaglio Quindi adesso ci sono questi tizi, voi sparate Sparate, reno, forza, ok? Questi qua si spaventano, questo qua si spaventa Basta intimidirlo, l'ho picchato un po', sparate Molto bene, vi chiama il GT, vi dice che ha trovato le scorte Ora dobbiamo riprendere la macchina e guidare fino alle scorte Quindi macchina, tac Andiamo, giriamo Quindi cerchiamo dove sono le scorte Molto bene, sono abbastanza vicine Però bisogna guidarci, bisogna guidare e arrivarci Ok? Quindi noi andiamo Qua ci sarà il camioncino della Bugstar Che ormai mi ricorda i colpi Per cui arrivate Rubate il camioncino E dovete poi portarlo al business Perché ovviamente dovete rifornire il business In questo caso Per risparmiare, lo sapete che io con questo account Ho sempre comprato tutto fuori Che conviene comprare tutto fuori Perché se comprate tutto fuori Risparmiate circa 3 milioni e mezzo di dollari E poi eventualmente conviene spostarli quando sarete più ricchi Però in questo caso ho ancora tutto là Perché non ho mai avuto voglia di spostarlo Ogni volta che spostate dei business Ricordatevi che perdete le migliorie Poi perdete tutte le scorte che avete dentro Che non avete ancora utilizzato E tutta la merce in venduta Mi raccomando questo è importante 5 minuti dopo Arrivo Quindi prima missione Prima missione Minuti spesi circa una decina E sono stato fortunato perché avevo Non mi è successo niente in sessione E in più Avevo comunque una Krieger Non è un oppressor Però una Krieger è sicuramente È una tra le macchine più veloci del gioco Quindi Rifornimento completato Prima missione andata Siamo passati da Zero di merce A due tacche Come potete vedere Siamo a due di merce Quindi siamo stati molto fortunati A volte potrebbe capitarci Di completare Una sola tacca Tanto che siamo già qua Inutile andare al Master Control Terminal Intanto la sessione si è praticamente svuotata Prima c'erano 8-9 persone Adesso si è Si è praticamente svuotata Non so come sia possibile una cosa del genere Però sono stato molto fortunato Rubiamo ancora le scorte Nuovo rifornimento Stavolta dobbiamo andare alla segheria di Paleto Forest Ovviamente Di Forest Ovviamente tutte le missioni sono casuali Sono sempre le solite cose da fare bene o male Cioè questa è una missione che vi capiterà spesso Però sono casuali Non vi capiteranno queste tre Come vedrete in fila Però bene o male Questi sono i tipi di missioni Ora Paleto Forest Se non avete Dei velivoli O un oppressor O quant'altro Intanto richiamo la mia macchina Che l'ho lasciata A Los Santos Potete andare Alla Alla pista di atterraggio Di Sandy Shores Per esempio Trovate lì qualcosa che spawna E andate A Paleto Forest Ora Non avevo molto sbatti Di superare poi Il Il Mount Chile Eccetera L'ho detto Vabbè Ho la Krieger Valo direttamente Qua dobbiamo rubare Il camion della Humane Vedete che qua ci sono Tizi della Humane Quindi Prendiamo distanza Per non morirci male Molto bene Prendiamo Le armi preferite Guardiamo la situazione Dobbiamo fare fuori Un po' di gente Quindi Ecco qua Ecco qua Uno abbassato Questo qua Forse Headshot Ok E poi ci avviciniamo Finiamo gli ultimi restanti Che si nascondono Sono molto Sono molto timidi Quindi via anche lui Perfetto Siamo quasi Stiamo passando Insomma Saremo qua 5-6 minuti Alla fine È tempo di arrivare Fare le missioni E quant'altro Uccisi tutti Ora rubiamo le scorte Altro camion Dobbiamo tornare indietro Per cui Seconda missione Circa una decina Di minuti Come vedrete Siamo molto fortunati Perché non ci succede niente In questo caso C'è il treno E questo È un bel problema Quindi c'è il treno Non fatevi prendere Mi raccomando Non succede niente Ma non fatevi prendere Torniamo Alla casa base E in 10 minuti Abbiamo fatto Un'altra missione Ok E fin qui Mi state seguendo Credo sia Tutto a posto Ora Una volta che entriamo Con questa missione Andiamo a fare altre Due tacche di merce Il che vuol dire Che siamo a 4 tacche Di 5 E fin qua Uno potrebbe dirmi Eh Reno Vedi che ti sta convenendo Non è successo niente Non è ancora successo niente Di male Abbiamo rubato le scorte Non abbiamo speso niente Ok State con me Abbiamo 4 scorte Su 5 Andiamo a fare L'ultima missione Ok Quindi apriamo Il nostro bellissimo pc Accedi Rifornisci Ruba scorte E siamo a posto Ci stiamo addentrando Tra i 20 e i 30 minuti Di gioco Ok Quindi solo per fare Queste scorte Riprendiamo la Krieger Dobbiamo trovare i furgoni Che trasportano la merce Ora Io seleziono il primo Qua vicino Come potete vedere Ma ce n'è un altro In zona Los Santos Gli altri sono proprio A Los Santos Dovrebbero essere forse 3 o 4 Che dobbiamo esaminare Io ne trovo qua Uno vicino Lancio La bomba adesiva Faccio saltare Sono molto fortunato Infatti Mi sono ritornato Veramente fortunato Di aver trovato Le scorte Già al primo furgone E soprattutto Quello più vicino Non è finita Perché adesso Dovete rubare Il furgone Quindi Non mi ricordo Se potete farlo saltare In aria Ora Io non avevo Per questioni Di registrazione Non ho avuto Non ho avuto Il coraggio Di far saltare Il furgone E vedere Se potevo Raccoglierle In alcune missioni È possibile farlo Questa qua Veramente Non volevo Riregistrare Altri 20 minuti Per cui Mi sono occupato Di uccidere le persone Nel caso Non poteste Comunque dovete Uccidere Il guidatore Eccetera Quindi dovete Aspettare Poi Magari vedete Io ho distrutto La Krieger Dovete Non andare Contra altre persone Non fare incidenti Prendete Anche queste scorte E fin qua Siamo Quasi A 30 minuti Di gioco Adesso guardate Dove dobbiamo Tornare Praticamente Ok Dobbiamo tornare Di qua Quindi facciamo Tutto il giro Della mappa Ancora Arriviamo con calma E dopo 30 e passa Minuti di gioco Ora vedete Che c'è un Hydra La sessione È fondamentalmente Piena L'Hydra Meno male Era uno Di miei amici Che è entrato In sessione random Io già mi stavo spaventando Infatti avevo cominciato A zizzagare Poi mi sono reso conto Essere uno dei miei E quindi Non è successo niente E sono stato fortunato Ora Noi entriamo Nel nostro magazzino Appena finisce di caricare Come potete vedere Abbiamo fatto Tutte le scorte Abbiamo fatto Tutte le scorte In Mezz'ora di gioco In mezz'ora di gioco Abbiamo fatto Tutte le scorte Di un magazzino E ci è andato Tutto bene Ora Se già avessimo avuto Degli imprevisti Avremmo potuto metterci 40 minuti Un'ora Chi lo sa quanto ci vuole Per finire le scorte Se trovi gente Che continua a farti saltare Il culo O altro Quindi Un magazzino 30 minuti Io non ho un magazzino Io ho Tutti i magazzini dell'MC Quindi Coca Meta Erba Banconote E documenti falsi In più Lo stesso procedimento Lo si fa col bunker Il mio bunker Non è vicino È in culonia Quindi lo stesso procedimento Tre volte Anche cinque Perché col bunker Senza amici Lo devi fare Anche un colpo alla volta Quindi sono sei business Da riempire Ogni giorno Ci vogliono circa Mezz'ora Mezz'ora Un'ora Due ore Tre ore Tre ore Solo per fare Se tutto va bene Tutte le scorte In queste tre ore Mentre voi finite Il primo Ok Cominciate a fare il secondo Il primo comincia a produrre Ma tutti gli altri Sono fermi Ok Quindi Perché io dico Di comprare le scorte Dico di comprare le scorte Perché voi in dieci minuti Innanzitutto in un minuto Li comprate tutte Dal master control terminal Se ce l'avete Oppure semplicemente fate In venti minuti Girate tutti i vari business E comprate le scorte Sono 75 mila testa Sono 15 mila ogni tac Quindi se vi mancano magari due tac Spendete 30 mila dollari Vi fate tutti i business In dieci minuti Da quando le comprate Arrivano le scorte E cominciano già a produrre Se avete il master control terminal In un minuto Comprate le scorte per tutti In dieci minuti Vi arrivano Quindi undici minuti Da quando siete entrati in sessione I business cominciano già a produrre Avete speso Sono sei business Quindi sono 75 75 150 300 mila Più 150 450 mila dollari Spesi in scorte Ok Però avete risparmiato 3 ore di gioco Va bene 3 ore di gioco risparmiate In 3 ore di gioco Tra Colpi al casino Piuttosto che Import export Piuttosto che Missioni soldi doppi Missioni soldi tripli 300 mila Le avete già fatti In più 300 mila Su sei business Questi sei business A pieno regime Tutti Vi producono circa 3-4 milioni Quindi voi sommate 3-4 milioni Meno 300 mila dollari Di spese O 400 Cos'era 450 mila dollari Siamo a Circa 3 milioni 550 mila Più tutti i soldi Che avete fatto Nel frattempo Con le missioni Ok Più gli eventuali colpi Quindi sarete sempre in positivo Ovviamente Questa cosa forse Avete dovuto dirvi all'inizio video Comprare le scorte Ha senso Solo se avete Almeno La miglioria Dell'attrezzatura Se avete anche lo staff Meglio Chiaramente Per cui Non è una questione Che conviene A livello matematico E a Reno Si fanno meno profitti Si fa meno profitti Perché ci sono dei costi Maggiori Ma voi dovete guardarlo A livello di tempo Perché voi Nello stesso tempo In cui risparmiate 450 mila dollari Nelle stesse 3 ore di gioco Molto probabilmente Voi fate Molti più soldi A meno che Li passate quelle ore A gigioneggiare Andare in giro Col motoscafo E stare sullo yacht Degli amici E fare I babbi A rompere Come si chiama A rompere Le macchine Agli altri Con l'oppressore Se voi passate Quelle stesse ore A fare money grinding Fate molti più soldi Di quanti Ne spendete Per le scorte E in più Avete i soldi prodotti Dagli stessi business Ok E in più c'è il net club E in più c'è tutto il resto Quindi ragas Questa è la spiegazione Pratica Del perché Le scorte Una volta che avete Le migliorie Dovete per forza Comprarle Non potete pensare Di rubarle in eterno Se avete appena cominciato E avete comprato Questi business Eccetera Dovete per forza Comprarle Ma sappiate Che il vostro obiettivo Deve essere quello In tempo Celere Di passare A Comprarle scorte Ricordatevi che Questi business Non sono più convenienti Una volta erano convenienti Adesso non convengono più Ci sono tante altre missioni Che si possono fare Ci sono i colpi L'import export È arrivato prima Del Se non mi sbaglio Prima del Del biker DLC Ed è sempre convenuto Quindi Cercate di andare sempre Per sala giochi Net club Import export Basta E fate sempre Le missioni a soldi doppi E soldi tripli I business Del Motorcycle club Non conviene Portarli avanti Soprattutto se siete Da soli Se avete degli amici Vi aiutate a vicenda Ok Può convenire Siete in tre Vendete il business Di uno Poi vendete il business Dell'altro Poi torniamo sul mio Poi andiamo Su quello del secondo Poi torniamo sul mio Poi andiamo su quello del terzo Facciamo un altro del terzo Secondo Io Quindi in qualche ora di gioco Tutti vendono tutto Fate un po' di soldi E siete a posto Direi che per questo video È veramente tutto Noi ci vediamo domani Con Vita da Reno E sì 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 E giovedì è vicino Ah ultima cosa ragas Non comprate niente Da lunedì a giovedì Non comprate niente Aspettate sempre nuovi sconti Mi raccomando Questa regola è fondamentale Altrimenti Ogni volta che succede qualcosa Esco i nuovi sconti Ah cazzo me l'ho comprata lunedì Io ho speso 6 milioni Per forza Non ascoltate la regola numero 1 Da lunedì in poi Non si compra niente A meno che giocate 20 ore al giorno Per cui Se anche spendete dei soldi In più Senza approfittare degli sconti Che poi ci saranno Riuscite a rifare i soldi Credo di avervi detto tutto Credo di avervi detto tutto Da Reno È veramente tutto Lo sto dicendo troppe volte Tutto E noi ci vediamo alla prossima 3, 2, 1 Aloha E noi ci vediamo alla prossima E noi ci vediamo alla prossima